Wow Più che soffocamento ha dolore di solle Più che soffocamento Qua Alla chiede Qua Dio Adesso Come O Adesso Adesso A Dio Adesso Chiede Dio Chiudo Che cosa fa dolore Tutte le laterali O ogni tanto per passare puoi usare Oprire il ginocchio Passi le osse, le laterali, dipende Cerca E lui si spinge Ho Questo entra Molto più profondo Ho No, così è troppo evidente Anche no No, così no Vedi l'occo Ho detto Vai Gli occhi Giuseppe vai, hai saputo come funziona, stringi, metti il gommetto al ferro mettono un po' di forza, oh aspetta, oh con testa, guarda, aspetta qui, con testa e va anche qua un po' di forza, unica cosa secondo me è andare a saltare, per usare il corpo però va bene, perché sennò puoi perdere presa senza tagli, prima che devi fare l'interprese puoi saltare, fare presa, eh sì, perché sennò dopo, se magari non prendi, poi salti di ancora una volta, si alziamo qui, si controlla, si, si, si tu metti il braccio lì, vedi? si, si, questa, qua, qua, c'è una, vedi? vai vedi, stai, stai chiudendo, questa cosa fa la prossima volta, ah, si oh, vedi, si, si, vedi? io vado, ti mostro chi vuole andare, che vai, tu mi torni, tu mi torni vedi? ho chiuso si poi avvicino vedi? e poi stringendo tutti i sufochi di colo o di tua, o di tua propria braccia? la sola la sola la sola guarda cosa facciamo se non riusciamo a fare questa cosa io stavo qui ti mostro, eh, tu non vuoi io ci sto in controllo, ok? ok, ah, ah si, si, si tanto, tanto da qui, guarda, aspetta No, dai, 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 dai No. Cino. Cina. Cina. Da. Era un'altra cosa. Sì, non... Il triangolo si vedo che è troppo forte. Ok, ok, ok. Posa senti? No, no.